Buongiorno signor Sindaco, le chiediamo quali sono i progetti per la Galleria Umberto I che purtroppo in questi ultimi tempi è completamente abbandonato. I nostri problemi sono i venditori ambulanti che si alternano tra il San Carlo e la Galleria ed è un problema enorme, vi preghiamo di aiutarci. Grazie. Sulla Galleria Umberto noi abbiamo ripristinato la vigilanza della Polizia Municipale, quindi la situazione è un po' migliorata. Poi la direttiva precisa che ho dato ai vertici della Polizia Municipale è quella che in particolare nelle zone turistiche della città, quindi San Carlo, Galleria Umberto, Via Toledo, non deve assolutamente consentirsi che ci sia un commercio abusivo, dilagante, perenne e costante. Quindi su questo continuo a insistere, a dare direttive forti, anche se il personale non sempre è quantitativamente nella misura necessaria per poter garantire tutti i servizi, ma per me questa è sicuramente la priorità perché ci troviamo di fronte, per quanto riguarda la Galleria Umberto, uno dei gioielli della nostra città. Allora, si chiedeva al Sindaco se poteva comunque aggiornare un piano e programmare un piano per avvicinare il turista a questa nostra città che comunque ha una cultura meravigliosa, soltanto che comunque purtroppo siamo oggi come oggi in un discorso di repressi perché non abbiamo comunque una cartolina o una valutazione reale per programmare un discorso turistico e anche nel futuro aggiornarci non solo con l'American Cup ma creare veramente delle attrazioni in tutta la città. Sul turismo devo dire che noi stiamo facendo tanto, Napoli era ormai scomparsa dai tour internazionali, non si facevano più eventi sportivi, l'emergenza rifiuti che ci ha consegnato la precedente amministrazione come dono aveva ormai fatto scendere Napoli da tutte le preferenze dei vari cittadini del mondo. Oggi invece Napoli è una delle città d'Europa che maggiormente cresce in termini di turisti, abbiamo dei dati straordinari, ci fanno comprendere che Napoli sta scoprendo la sua vocazione turistica, quindi noi dobbiamo sempre di più organizzare eventi culturali, mettere in mostra le nostre bellezze, eventi di ogni tipo che possono attrarre persone nella nostra città e poi non dobbiamo fare altro che comunicare, evidenziare quanto Napoli sia bello visitarla, non perché sia tutto a posto nella nostra città ma perché è bello venire, perché si trovano bellezze straordinarie che non si trovano in altre parti del mondo, che ci sono tante cose belle anche dal punto di vista economico, commerciale, imprenditoriale, insomma Napoli vale la pena visitarli. Lei cosa ne fa, cosa sta pensando oggi per i vecchi venditori ambulanti che mantengono questa bella tradizione di Napoli? Se l'ambulante storico ha appunto una sua tradizione, chiamiamolo così, una sua tra virgolette storicità, bisogna aiutarlo ad entrare in un percorso di legalità, quindi di riconoscimento del suo lavoro. Quello che non si può fare è chi vende prodotti manifestamente contraffatti oppure prodotti addirittura dannosi per la salute pubblica, che non possono avere sicuramente tutela e riconoscimento. Io penso sarebbe interessante anche fare delle aree mercatali, delle aree in cui valorizzare attività anche di questo tipo, per esempio prodotti etnici, così come prodotti tipici degli ambulanti di strada della nostra città.